Sono contraria. Dice che si rischiano pocolai. Sì, è meglio dopo Natale, dopo le vacanze. È una buona soluzione, anche se riprenderanno solo per due settimane, perché poi ci sono le feste, però è un segno di ripresa, diciamo, anche perché visto che tutti gli altri stati qua, le scuole non sono mai rimaste chiuse. Certamente potrebbero essere una fonte di contagio nel momento più difficile dell'anno, diciamo. È una scelta difficile. È una scelta difficile. I ragazzi comunque hanno bisogno di socializzare, per cui per loro è fondamentale. Dopo la sicurezza è un altro aspetto, per cui se ci sono le condizioni sarebbe l'ideale. È un problema che rimane aperto perché io sono stata insegnante. So che i ragazzi nella classe sarebbero sicuri, sono sicuri. Il problema è prima e dopo, perché io li vedo, abito in centro, nelle ore di uscita dalla scuola, i ragazzi si assembrano, volenti o non volenti. Mi pare giusto. Rischioso per qualcuno. Forse per i ragazzi, sì. Però hanno bisogno di tornare alla normalità. Non vediamo l'ora, guardi. Siamo tutti stanchi. Grazie. 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 Grazie.